Ha evaso 631.000 euro e non ha versato 61.000 euro di IVA. Inoltre per tre anni non ha presentato dichiarazione dei redditi, risultando evasore totale. Una società che si occupa di ristorazione a Cagliari è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale che nel corso di complesse indagini, contabili e documentali hanno verificato la posizione irregolare dell'impresa. Dalle verifiche è risultato che l'azienda negli ultimi tre anni non ha dichiarato nulla all'Agenzia delle Entrate, sottraendo pertanto a tassazione 631.000 euro di ricavi e 61.000 euro di IVA. Le fiamme gialle hanno deferito in stato di libertà il titolare dell'azienda all'autorità giudiziaria ad aggravare la sua posizione e il fatto che i dipendenti fossero in nero, da cui le sanzioni previste dalla normativa in vigore e l'obbligo di regolarizzazione. Nelle ultime settimane la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cagliari ha intensificato su tutto il territorio di competenza i controlli che hanno portato all'individuazione in diverse società che fatturavano ingenti somme ma risultavano in alcuni casi assolutamente sconosciute al fisco.